Sono molto contento di andare a Londra, al di là del fatto di giocare e non giocare sarà un evento storico, un evento che secondo me sarà uno dei più importanti degli ultimi anni. Roger è sempre stato venuto, lo vuole tuttora, lo sarà dopo, quindi essere lì con già la pelle troca a pensarci. Quindi sarà molto piacere.